Ben trovati con il TGDs di Telebari. È stato aperto ufficialmente il sottovia di Parco Scizzo, che collega Bari con Noi Cattaro, realizzato dalla rete ferroviaria italiana. Il sottovia, percorribile da auto e pedoni, ha una carreggiata larga 7 metri ed è dotato di marciapiede laterale e di un nuovo impianto di illuminazione. L'opera rappresenta il completamento di un intervento più ampio, che comprende anche il sottovia in via Coppa di Bari, attivato nel 2022. Con questi due interventi è stato possibile chiudere altrettanti passaggi a livello nell'area metropolitana di Bari e contribuire a migliorare i livelli di affidabilità del traffico stradale ferroviario. Dal prossimo settembre i pazienti con sospetta diagnosi di tumore potranno essere presi in carico nella gestione del percorso diagnostico-terapeutico senza doversi necessariamente spostare dai propri luoghi di residenza. E la novità del progetto Telecoro dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, un servizio infermieristico di orientamento e assistenza sotto la sorveglianza clinica dei medici oncologi di riferimento che sarà presente sul territorio nelle sedi di 11 distretti sociosanitari dell'ASL di Bari. La Regione Puglia ha approvato le indicazioni operative per le procedure di assunzione nelle ASL. L'Aggiunta ha stabilito che i direttori generali dovranno procedere con il completare tutte le procedure concorsuali già bandite e procedere con le relative assunzioni di personale a tempo indeterminato oltre che portare a completo scorrimento ed esaurimento tutte le graduatorie. 1.400.000 euro destinati a finanziare in Puglia 14 progetti di ricerca dedicati allo studio delle malattie rare. I fondi sono stati stanziati dal Consiglio regionale pugliese dove nella giornata di ieri sono stati presentati gli studi ammessi al finanziamento. Senza ricerca non può esserci progresso, ha dichiarato la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. Un piano straordinario regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica per valutare e intraprendere azioni finalizzate alla mitigazione degli impatti e dei rischi potenziali causati in particolare dai cinghiali, pericolo per la sicurezza umana, per l'ambiente e la biodiversità. E' quanto deciso dalla Regione Puglia su proposta degli assessorati all'agricoltura e all'ambiente. Lo ha annunciato l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia donato Pentassuglia nel corso della manifestazione organizzata giovedì dalla Coldiretti a Bari. Nell'ambito del cartellone, le due Bari 2024, quartieri uniti dalla cultura promosso dall'assessorato comunale alle culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della città, tanti gli appuntamenti in programma per questo weekend e fino alla fine dell'estate. Per questa terza edizione della manifestazione sono oltre 400 gli eventi in programma dal 1 luglio a 30 settembre, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla Regione. I giudici della Corte di Assise d'Appello di Lecce hanno confermato la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per un anno inflitta in primo grado a Michele A. Portone, il 73enne di Sandonaci, in provincia di Brindisi, accusato dell'omicidio del maresciallo dei carabinieri in pensione, Silvano Nestola, ucciso a fucilate il 3 maggio del 2021 a Copertino. La Corte ha confermato l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Appartamenti e auto di lusso sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad un uomo di 57 anni di Carrapelle nel Foggiano, residente in Molise, che, secondo l'accusa, avrebbe realizzato un ingente patrimonio attraverso la commissione di numerosi reati fiscali e finanziari. I finanzieri, nei suoi confronti, hanno eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Milano. Ammonterebbe a circa 3 milioni di euro il bottino dell'assalto al portavalori compiuto giovedì mattina nel Brindisino lungo la strada statale nei pressi di Torchiarolo. Il commando sarebbe composto tra le 8 e 10 persone, secondo i primi riscontri di carabinieri e polizia. I banditi, dopo aver aperto il fuoco, hanno incendiato alcune auto su entrambe le direzioni di marcia per ostacolare l'intervento delle forze di polizia. Gustarsi lo straordinario spettacolo di Taranto vista di sera dal mare, anzi dai suoi due mari, vivendo una eccezionale esperienza sensoriale con cultura, musica ed eccellenze della enogastronomia locale. E questa è la proposta di Note in Onda, la nuova iniziativa nata dalla collaborazione tra Chima Mobilità e l'agenzia Posizione Note con il patrocinio di Puglia Promozione e del Comune di Taranto. E con il TGList è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie a tutti.